Senti, a proposito che dicevi dell'Avvocato Agnelli, tra l'altro tuo papà lo scambiavano, ci sono degli episodi molto gustosi che racconti in questo libro, perché lo scambiavano per l'Avvocato Agnelli, perché c'era una certa somiglianza. Ah sì, c'è stato un periodo in cui per me, io non mi sembrava così evidente. Ecco qua, guarda un po', vediamo un po'. Ma invece sì, vedi, c'è una cosa, papà aveva il capello un po' più lungo qui in questo momento, ma una volta siamo andati alla stazione per andare a Milano e quando si passava dalla cosa per il pubblico ai binari, c'erano dei baracchini come hanno rimesso adesso in cui bisognava far vedere il biglietto e ho visto questo qui, questo addetto, che quando ha visto mio padre è sbiancato e quando si è avvicinato ha detto, ma io a lei la conosco e mio padre pensando, forse mi ha riconosciuto come Dino Risi, non so, e dice non lo so, può darsi, poi c'era la R, anche lui un po' arrotata e dice certo, Avvocato, se la gente come lei prende il treno, questo è proprio un grande paese. E lui comunque... E poi in treno, mentre andavamo al wagon restaurant, io gli facevo strada e vedevo che tutti nei vari scompartimenti guardavano e gli dicevo, venga Avvocato, mi segua, mi segua, facendolo come se fosse una specie di guardia e lui mi diceva, non fare lo stronzo, anche lì arrotando un po' di più l'aria. Insomma, mi sembra che vi siete divertiti parecchio. Allora...